Ciao, io sono Francesca Bruno, ho 26 anni. Io mi piacerebbe lavorare nella fattoria didattica con Valentina e Alessandro, che mi trovo così molto bene. Poi mi piacerebbe andare nelle scuole di nuovo con Valentina e Alessandro, mi piacerebbe fare i formaggi, mi piacerebbe lavorare in negozio, suonare clarinetto con frederi. Poi a me piace abitare sempre vicino alla mamma, io ho paura di abitare senza la mamma. Ho tanta paura. Ciao! Ciao!